Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Q&A Sunday. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Domande, domande, domande e allora risposte, risposte, risposte. Però ragazzi ho visto che vi siete un po' rilassati con le domande questa settimana, quindi datevi da fare. Voglio tante belle domande originali, non sempre le stesse. Noi in ogni caso partiamo con queste, subito dopo la sigla. Anzi per qualche motivo il mio iPad 10.5 non sta sincronizzando le foto con streaming foto e allora prendiamo lui. iPad 2017 che è comunque un ottimo tablet, anzi è ancora più compatto e mi piace. Ve lo consiglio, 10.5 ovviamente è una soluzione migliore per chi cerca prestazioni, ve ne ho parlato nella recensione, ma lui ragazzi resta un device consigliato e forse anche più gestibile, che vi costa meno anche perché non dovete comprare particolari accessori. Insomma, sei sempre un bell'iPad tu, carino, bello. Allora, la prima domanda di questo Q&A Sunday è di Filippo Ferrari. Ciao Andrea, volevo chiederti un consiglio. Io sto per comprare le iPod e volevo chiederti se dovrei aspettare le iPod wireless. Mi sapresti dire se cambia solo il case o anche qualcos'altro? No, cambia solo il case, ma tra l'altro il case è opzionale, quindi puoi comprare le iPods oggi e aggiungere il case. Tra l'altro non so se verranno già vendute con case wireless e se costeranno di più, credo proprio di sì, ma in ogni caso ti consiglierei anche di comprarle ora e poi ti compri il case a parte. Michele Girardi, ciao Andrea, mi conviene passare da iPhone 7 a iPhone 8? Grazie se mi rispondi, buon lavoro. Guarda, ti direi di no, perché iPhone 8, nonostante sia un ottimo device, un ottimo upgrade, ha comunque poche novità rispetto ad iPhone 7, se vogliamo. Se mi dici tra iPhone 7 e iPhone 8 Plus ti posso dire guarda, forse ne vale la pena. O anche se mi avessi detto tra iPhone 7 Plus e iPhone 8 Plus se vale l'upgrade ti avrei detto di sì. Ma tra iPhone 7 e iPhone 8 ci guadagni solo in prestazioni e il True Tone Display e un po' di batteria in più, ma ti direi che non vale la pena. Magari punta ad iPhone 10 oppure ti tiene ancora per un anno il 7 e magari punti direttamente poi ad un iPhone 9 in uscita nel 2018. Alessandro Dalbon, QNiSunday, ciao Andrea, secondo te per fine dicembre sarà possibile trovare iPhone 10 in un qualunque Apple Store in Italia? Mi consigli la colorazione argento-grigia? Grazie e continua così. Allora sul colore, guarda, è soggettivo. Io sinceramente prenderei la Black perché quel cambio di colore insomma lo odiavo su iPhone 3GS ai tempi e quindi no, non lo prenderei mai grigio. Per quanto riguarda invece la disponibilità, saranno mesi difficili i primi di iPhone 10, si stima che la produzione andrà in pari da gennaio, dal 2018. Insomma, secondo me già dicembre però magari può essere un mese di assestamento, quindi non dico che sarà semplice trovare il telefono, ma forse sarà un po' più semplice rispetto a trovarlo a novembre. Ovviamente sarà passato un mese, sarà smaltita una buona parte insomma dei preordini e quindi molti device saranno disponibili forse un po' meglio per l'acquisto libero. Non lo so, però il mio consiglio è se vuoi comunque acquistare iPhone 10 ti consiglio di preordinarlo in 27 ottobre, così se anche va storto qualcosa ti arriva, non dico i primi di novembre, ma magari a metà novembre, a fine novembre, ma ti assicuri che entro dicembre insomma lo avrai in tasca, quindi ti consiglio di preordinarlo, andare all'avventura è un po' un'avventura, dipende da quanti smartphone Apple produrrà e se riuscirà a soddisfare la produzione in tempi brevi oppure no. Dicembre è comunque a rischio per me, quindi senta me, preordinalo. MP42, iPhone 8 o iPhone 8 Plus e perché? Ti direi iPhone 8 Plus perché nonostante iPhone 8 sia più bello, compatto, è un dispositivo secondo me poi alla fine è riuscito meglio iPhone 8, però le vere novità sono su iPhone 8 Plus, portrait lighting, abbiamo sì il true tone display su entrambi, però l'8 Plus ha più batteria, lo schermo full HD, il processore lo stesso, però ragazzi l'esperienza d'uso di un iPhone Plus ormai è una cosa diversa e migliore. Fino a quando si parlava di un iPhone 6 e di un 6 Plus, la cui unica differenza oltre lo schermo e la batteria era lo stabilizzatore ottico della fotocamera, che voglio dire sì, buona novità, ma se ne poteva fare a meno, oggi lo stabilizzatore lo abbiamo su entrambi, però tutte le funzionalità legate alla doppia cam di iPhone 8 Plus, quindi portrait lighting, lo zoom 2x, insomma secondo me fanno propendere per quel dispositivo, oltre a tutte le altre funzioni esclusive del modello Plus, quindi tra i due ti consiglio iPhone 8 Plus. Stefania Bertone, ciao Andrea volevo chiederti, viene tanto esaltata giustamente la fotocamera dell'iPhone 8 Plus, ma l'iPhone 8 come dimensioni risulta troppo grande il Plus, quindi vorrei capire se con l'8 faccio comunque un buon investimento, aspetto e vendo un rene per il modello X. Beh se ne hai ancora due di rene forse uno puoi venderlo, sto scherzando ovviamente, l'iPhone 8 fa delle ottime foto, in ambito foto non si discute e neanche in ambito video, iPhone 8 Plus è un pelo davanti perché ha quelle funzioni di cui parlavo prima, la modalità ritratto, con il portrait lighting, lo zoom 2x attivo sia nelle foto che nei video, insomma secondo me se vuoi una fotocamera completa, quella di iPhone 8 Plus è quella completa, quella di iPhone 8 pecca in qualcosina, gli manca qualche pezzo, diciamo così in modo brutale, gli manca qualche pezzo. E quindi io se cerchi proprio la migliore fotocamera al momento è quella di iPhone 8 Plus, ovviamente tra un mese la migliore sarà quella di iPhone 10 perché avrà tutto ciò che ha iPhone 8 Plus, ma in più avrà anche una fotocamera anteriore migliorata e in generale insomma renderà meglio quindi sia nelle foto che nei video, ne sono sicuro, ma per il momento ti consiglio iPhone 8 Plus. E siamo arrivati all'ultima domanda di questo video, pro player perché Apple ha rimosso il serie 2 di Apple Watch? Perché alla fine il serie 3 non è molto diverso da un serie 2, in più ovviamente a qualcosina, mantenerli entrambi in commercio diventava un problema perché se hanno prezzato il serie 1 a 100 euro in meno, il serie 2 a quanto dovevano metterla? 50 euro in meno del serie 3? A quel punto nessuno avrebbe più comprato il serie 2 in ogni caso e per 50 euro prendevano tutto il serie 3. Quindi è stato sacrificato perché fondamentalmente le differenze del serie 3 non sono così tante da portare il prezzo ad un livello ancora superiore, quindi l'hanno messo al prezzo del serie 2 di un anno fa e il serie 2 è scomparso. Se vuoi risparmiare c'è il serie 1 che costa 100 euro in meno, ha qualcosina in meno e quindi viene giustificato quel risparmio. In ogni caso ragazzi queste erano le vostre domande, mi raccomando tante altre domande interessanti qui sotto nei commenti per il Q&A Sunday di settimana prossima che andrà online, si spera, se riesco a montare tutto, a caricare tutto in tempo alle 19 di domenica prossima. Noi ci risentiamo ad un prossimo video, quindi ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com e buona fine di domenica e buon inizio per la prossima settimana. Grazie. Grazie. Grazie.